Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Vi lascio tutti i link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Giana del Gaudio Anche loro sposati. Quello in cui vivono i due coniugi è un tranquillo quartiere residenziale con tante villette a schiera, violetti sempre puliti e siepi tagliate di fresco. La sera del 26 agosto 2016 tutta la famiglia è riunita per cenare in giardino. Le vacanze sono finite da poco e nella calda afa brianzola si ride, si mangia, si brinda e si parla del viaggio appena concluso ad Avellino, il paese originario della coppia. Intorno al tavolo ci sono Gianna e Antonio, ma anche Paolo e Mario e le rispettive mogli, Elena e Alessandra. I piatti sono preparati con cura, leggeri e freschi. C'è della mozzarella campana al centro tavola, un souvenir della trasferta al sud. Intorno a mezzanotte gli ospiti si congedano. Gianna inizia a sparecchiare e poi si dirige in cucina per lavare i piatti. Il marito sale al secondo piano nella camera da letto della villetta quando sente gridare la moglie che è nel soggiorno al piano terra. Corre al piano inferiore dunque per capire cosa è successo e trova la donna con la gola squarciata e un uomo vestito di scuro e con un cappuccio in testa intento a frugare nella stanza. Vistosi scoperto l'assassino si è subito dato alla fuga scappando dalla porta finestra sul retro e lasciando delle macchie di sangue. Tizzani ha chiamato il 112 e sul posto sono arrivati i carabinieri della tenenza di Seriate e quelli del reparto operativo di Bergamo. Sono stati i secondi coincitati, l'intruso è scappato via e Antonio non ha fatto in tempo a rincorrerlo perché quando si è girato ha visto una scena raccapricciante. Gianna riversa in terra davanti al lavandino in una pozza di sangue con la gola tagliata. Daniela Buonavolta che vive nella villetta vicina racconta sono stata svegliata da un grido disperato oh mio dio oh mio dio a gridare dopo aver trovato il corpo senza vita è stato il marito della vittima Antonio Tizzani. È mezzanotte 40 l'uomo telefona subito a uno dei figli poi al 118 per allertare i soccorsi quando arrivano purtroppo Gianna è già morta e non c'è più nulla da fare. La telefonata di richiesta di aiuto è agitata e sconnessa Antonio non si avvicina alla moglie la chiama da lontano urla in vano il suo nome dal giardino. La giornata del 27 agosto si appresta ad essere lunghissima parte con i primi rilievi sul luogo del delitto che hanno evidenziato alcune incongruenze per esempio il fatto che nessuna delle porte abbia segni di scasso anche se il cancellino del retro ha una serratura rotta e quindi non si chiude. Per ore si è cercata anche nei prati vicini e tra le macerie di un cantiere l'arma del delitto che non è però ancora stata trovata. Il marito e i due figli della vittima sono stati a lungo sentiti nella caserma di via delle valli e ne sono riemersi nel pomeriggio. Alle 14.30 il PM Laura Cocucci torna nella villetta con i carabinieri e con Antonio Tizzani il quale ripete il suo racconto indicando dove si è fermato dopo essere sceso dalla camera. La posizione del corpo della moglie e cosa stava facendo l'assassino. Il magistrato in questa occasione domanda ma secondo lei uno che ha appena ucciso una donna e che sa della presenza di un'altra persona in casa continua a frugare? Proprio per chiarire diversi dubbi sul delitto Antonio Tizzani è stato iscritto nel registro degli indagati. Atto dovuto avvertono gli inquirenti per consentire all'uomo di difendersi e per effettuare ulteriori attività investigative. I sigilli sono stati apposti alla villetta vicini alle macchie di sangue. Gli inquirenti stanno anche cercando telecamere che possano avere ripreso l'assassino in fuga. Nella zona non esistono impianti di videosorveglianza comunali o scolastici e si sta quindi verificando se ce ne siano stati altri privati. Il 30 agosto alle 14 del pomeriggio, dopo 4 ore, si è conclusa l'autopsia su Gianna Del Gaudio. Il sostituto procuratore Laura Cocucci ha affidato l'incarico al medico legale dell'Università di Brescia, Andrea Verzeletti. Già da una prima ispezione del corpo è emerso che la donna è stata uccisa con un unico taglio alla gola. Gli ulteriori esami potrebbero risultare significativi per capire ad esempio se Gianna ha lottato con l'assassino. Eventuali tracce sotto le ungue potrebbero portare direttamente al colpevole. Chi indaga sul delitto di seriate riassume con queste semplici parole la ricostruzione fatta da Antonio Tizzani. È un racconto poco lineare. Nel frattempo i RIS arrivano a seriate, nella casa dove è stato compiuto il delitto. Gli specialisti dei carabinieri effettuano un complesso intervento alla villetta di Via Madonna delle Nevi per rilevare tutte le tracce di sangue presenti nell'abitazione. Mario, uno dei due figli di Gianna del Gaudio e Antonio Tizzani, se n'era andato da una quarantina di minuti. Durante il giorno aveva lasciato i cani ai genitori per andare al lavoro e la sera era tornato a prenderseli. Si era fermato a cena da mamma e papà con un paio di altre persone. Secondo le testimonianze raccolte dai carabinieri, a mezzanotte se n'erano andati. E quando Antonio, a mezzanotte e 43 minuti, ha chiamato il 112, numero unico di emergenza che vale per chiamare l'ambulanza così come per chiedere l'intervento delle forze dell'ordine, era già rimasto del tempo da solo con la moglie. Una finestra piuttosto ampia che non lo aiuta. Il sindaco Cristian Vezzoli, che ha fatto visita alla famiglia, commenta se solo fosse rimasto il figlio. Se solo ci fossero stati lì anche i cani. Antonio avrebbe avuto dalla sua un aiuto o un deterrente rispetto al ladro di cui ha parlato, che non convince gli inquirenti, ma soprattutto avrebbe avuto dalla sua un testimone. Invece così c'è solo la sua versione e nemmeno questa lo aiuta. I figli comunque fanno quadrato attorno a lui. Descrivono una famiglia che andava d'amore e d'accordo. Paolo, che vive a una trentina di metri di distanza insieme alla moglie e i due figli, ospita il padre. C'è un dettaglio però all'attenzione dei carabinieri. Una discussione tra marito e moglie. Proprio la sera del delitto. La normalità, soprattutto quando in una coppia c'è chi ha un carattere forte, ma che se confermata colpisce la luce di quello che è successo. Non è dato sapere se provenga da una testimonianza o da altri spunti di indagine. Anche quelle, le testimonianze, sono importanti nell'inchiesta. E non significa farsi gli affari degli altri, ma aiutare a capire se davvero, come racconta l'unico indagato, ci ha spasso uno sconosciuto che non ha avuto scrupoli a tagliare la gola alla padrona di casa. Peraltro non nel cuore della notte, non sorpreso da chi nel sonno ha reagito, ma a quanto pare dai pochi dettagli che trapilano in una casa in cui c'era ancora movimento per le faccende di un dopocena. Il 2 settembre Antonio cambia versione. In realtà lui non era al piano di sopra in camera da letto, bensì in giardino a bagnare le piante. Da due giorni è seduto nella sala acqua della casa del commiato di Seriate. Davanti a lui la baracchiusa della moglie, Gianna Del Gaudio. Gli investigatori non si sono accontentati del racconto del marito e dei due figli. A chi indaga servono riscontri oggettivi, almeno per fissare orari precisi. E dai tabulati telefonici spunta l'ultima attività della prof dal suo smartphone. Una telefonata che cade a mezzanotte e 08 e consente agli inquirenti di fissare il lasso di tempo in cui, senza alcun dubbio, va collocato il giallo. 35 minuti tra quella chiamata, ultimo segnale oggettivo di vita di Gianna Del Gaudio, e l'allarme lanciato dal marito. Più di mezz'ora in cui può essere davvero accaduto di tutto. In cui potrebbe davvero essere andata in scena l'azione fulminea di un ladro sconosciuto. O in cui un assassino, con un piano premeditato, potrebbe aver fatto tutto senza lasciarsi sfuggire un solo dettaglio. Con chi era in contatto a mezzanotte e 9 minuti? La prof di seriate? È un'informazione importante per tentare di ricostruire tutti gli eventuali movimenti e i contatti, grazie a celle telefoniche e tabulati, anche in questo caso, del marito Antonio Tizzani. Per ora si dà per assodato che l'uomo sia sempre rimasto in casa. Sotto controllo sono anche i movimenti del figlio Paolo, che vive a quattro villette di distanza dall'abitazione di famiglia, e del figlio Mario, che abita non lontano dalla casa del commiato, comunque più distante rispetto al fratello. Proprio lui era a cena quella sera, fino a mezzanotte, e proprio lui è stato richiamato dal papà. Oltre mezz'ora dopo è tornato a casa dei genitori e ha visto anche lui quanto era accaduto con la mamma a terra, morente, sul pavimento della cucina. Dopo quell'ultimo contatto telefonico, Gianna Del Gaudio ha litigato col marito? Ha discusso forse con il figlio? Antonio Tizzani nega apertamente la circostanza. Non c'è stato nessun battibecco, dice. Altre testimonianze raccolte anche tra i vicini dicono che proprio lì, in quella stanza, una discussione a voce alta c'è stata, e secondo chi indaga potrebbe essere avvenuta proprio nell'abitazione del delitto. Chi sia l'assassino entrato in azione quella notte ancora non si sa, ma potrebbe trattarsi di un omicida che non ha messo a segno un delitto perfetto. Tra gli inquirenti si respira una certa fiducia, almeno apparente, nell'analisi del RIS di Parma intervenuti sul posto con il comandante, il colonnello Gian Pietro Lago. Sembra che i militari del reparto investigazioni scientifiche non abbiano repertato tracce organiche di persone che non fanno parte del giro familiare dei tizzani del Gaudio. E anche una semplice traccia dell'unico indagato nell'abitazione non significherebbe nulla. È casa sua, ed è normale che vi sia anche solo una goccia di sudore da qualche parte. È quindi decisivo il lavoro sulle tracce miste che vanno in due direzioni. Se solo sul sangue della vittima, magari su macchie non direttamente a ridosso del cadavere, ma sparse nell'abitazione, ad esempio il cancello sul retro dove qualcosa è stato isolato, vi fossero impresse impronte digitali, allora il caso sarebbe una svolta. Davanti, dietro e sui lati, in un raggio di 300 metri. I carabinieri hanno recuperato diversi filmati di telecamere, private e pubbliche, attorno al blocco di villette schiera rosse in cui si trova il civico 4, dove Gianna del Gaudio è stata uccisa con una coltellata alla gola. Ma dell'uomo con un cappuccio della felpa in testa ad cui parla il marito Antonio Tizzani, o comunque di uno sconosciuto in fuga, non c'è traccia. La cautela è massima perché gli occhi elettronici sono sì più di uno, ma quello che sarebbe stato più utile di tutti è fuori uso. È di un vicino e inquadra il cancello del giardinetto di casa Tizzani, su cui si affaccia la cucina dove si trovava la vittima. Da lì, secondo il marito, è scappato l'assassino. Nessun'altra telecamera punta sul cancello, ma sul vialetto pedonale fuori sì, così come su altri percorsi attorno alla casa e alle abitazioni vicine. Niente, nessun uomo in fuga. La cautela è d'obbligo perché non si può escludere che lo sconosciuto, di cui parla Tizzani, possa aver imboccato altre vie in quel groviglio di passaggi pedonali e parcheggi della zona. Nei filmati si vede invece l'arrivo dei figli della coppia e dei soccorritori. Ci sono le parole di Antonio. Unica testimonianza diretta. Dice che stava bagnando i fiori nel giardinetto che si affaccia su Piazza Madonna delle Nevi, dalla parte opposta a quella in cui si è intrufolato lo sconosciuto. Quindi in realtà non era al secondo piano in camera da letto, come aveva sostenuto inizialmente. Rientrato l'ha trovato che frugava nella borsetta della moglie. L'ha rincorso fino all'uscita opposta, ma si è fermato quando ha visto Gianna Terra. Non l'ha soccorsa, afferma infatti, non ce l'ho fatta, mi sono bloccato. Gli investigatori stanno cercando di mettere a fuoco i rapporti all'interno della coppia e di comprendere meglio le dinamiche tra marito e moglie. I due, all'apparenza, erano più che uniti. Lui, Antonio, che percorreva anche 40 chilometri fra andata e ritorno, per aspettare la moglie all'uscita dell'istituto Rubini di Romano, dove ha insegnato per 20 anni, e lei che postava fotografie del marito su Facebook indicandolo sempre in un solo modo, il mio amore. Tanto che qualche conoscente li aveva definiti i fidanzatini. Ma, sospettano gli investigatori, a volte l'armonia familiare si spezzava di colpo, come ha testimoniato qualche vicino che sentiva l'ex capostazione alzare la voce. In particolare, non sfuggito agli stessi inquirenti che, parlando con l'uomo, lo hanno visto perdere la pazienza e assumere toni bruschi. Per ricostruire i dettagli della vita della vittima, i carabinieri del reparto operativo di Bergamo hanno controllato le cartelle cliniche di numerose visite alle quali l'insegnante si è sottoposta negli anni. Hanno così scoperto ferite al volto e al corpo e anche denti spezzati, uno degli investigatori afferma sono ferite per le quali sono state offerte spiegazioni plausibili e che non sono mai state seguite da denunce, ma che possono essere compatibili con le percosse e andrebbero interpretate nell'ambito di una certa dinamica familiare. Ma servono comunque ulteriori riscontri. Antonio, intanto, ripete una sola cosa. Io non l'ho mai picchiata. Forse qualcun altro che frequentava, sì. I lividi, le chimosi, i denti rotti, insomma tutte le ferite per le quali Gianna del Gaudio si è rappresentata dai medici e che, secondo gli inquirenti, sono compatibili con le percosse. Non sono state provocate da lui. L'uomo sostiene che la moglie, che non risulta affetta da malattie che possano provocare perdita di equilibrio, era soggetta a cadute, in casa, dalle scale, perfino alla pensilina dell'autobus vicino al sottopassaggio di via Marconi, a Seriate. Era in questi casi, secondo Tizzani, che la donna si era ferita al volto e al corpo, si era fratturata un braccio e si era rotta agli incisivi. Paolo Tizzani e la moglie Elena Foresti sono stati convocati dai carabinieri per degli approfondimenti. L'uomo non era ancora stato ascoltato in modo dettagliato. I due arrivano alla caserma di Via delle Valle intorno alle 9.30 e solo alle 16.35 Paolo ricompare, però solo per andare a prendere a casa il padre con due carabinieri. Antonio Tizzani, che vive con Paolo dal 27 agosto, raggiunge il figlio nel garage e sale in macchina. L'auto torna in caserma alle 17.10. Sul telefonino di Paolo Tizzani, ecco che emerge lo scambio di messaggi WhatsApp con la moglie Elena Foresti alle 3.04 della notte. Lei gli scrive «Ecco, ci risiamo, mi hanno suonato di nuovo». Lui le chiede «C'è qualcuno?» E poi «Chiamo mia mamma. La mamma di Paolo è il Gianna del Gaudio». Colpisce il fatto che in piena notte, con uno sconosciuto al campanello, in una situazione pericolosa, il pensiero sia di chiamare la mamma e non il papà, Antonio. La spiegazione di Paolo è che il papà ha il sonno pesante. Di quei messaggini, e non solo, i carabinieri, hanno chiesto conto nel lungo interrogatorio suo e della moglie nella caserma di Via delle Valli. Hanno tenuto i loro telefoni cellulari per analizzarli. Questo perché i messaggi sono collegati al racconto di Elena Foresti. Prima che spuntassero le chat, o almeno che Paolo ne parlasse con i giornalisti, aveva parlato di uno sconosciuto che suonava il campanello di notte quando il marito era al lavoro. «Sempre da me e quando tu fai le notti. Domani vado dai carabinieri», aveva scritto Elena Paolo, ma non ha mai denunciato. Dopo l'omicidio ha riferito di un uomo incappucciato, così come incappucciato era, secondo Antonio Tizzani, lo sconosciuto che avrebbe ucciso la moglie Gianna. La lente è puntata anche sul suo racconto, oltre che su quello del suocero. Nelle ore di interrogatorio della coppia, i carabinieri hanno chiesto a lungo chiarimenti. L'orario è ben circoscritto da uno scambio di sms. «La notte in cui Giona del Gaudio è stata uccisa, a mezzanotte e mezza, una persona è tornata a casa nel quartiere della villetta schiera del delitto, a Seriate. È arrivata dal retro, ha percorso il passaggio pedonale accanto alla casa di Paolo, il figlio di Antonio Tizzani e della vittima Gianna. Ed è spuntata sulla parte anteriore che si affaccia su Piazza Madonna delle Nevi. Non ha sentito nulla, non ha visto nessuno. La testimone non ha percorso tutto il violetto da cui secondo Tizzani sarebbe scappato l'assassino. Ma lo ha potuto vedere bene. Avrebbe notato uno sconosciuto in giro a quell'ora con il deserto e il silenzio attorno. Una volta rientrata in casa, a mezzanotte e 45 minuti, riceve un messaggio dall'amico con cui aveva trascorso la serata che l'avvisa di essere arrivato a casa dopo circa un quarto d'ora di viaggio. Lei gli manda questo sms. C'è un giro un pazzo che continua a urlare. Lui le chiede spiegazioni e lei risponde di aver sentito. Paolo, svegliati! Tizzani nel frattempo ha chiamato il figlio Mario che abita sempre a seriate a 500 metri di distanza. La testimone è stata sentita dai carabinieri e lo scambio di messaggi è stato acquisito. È importante per verificare la versione di Tizzani e per circoscrivere i tempi del delitto. Il dato di fatto è che a mezzanotte e mezza non c'era nulla. Lo sconosciuto non si era ancora intrufolato in casa oppure era già successo qualcosa che l'indagato nasconde? Il 20 settembre Antonio Tizzani viene portato in procura a Bergamo per l'interrogatorio davanti al PM Laura Cocucci ma sceglie di non rispondere alle domande. Non abbiamo evidenza dell'esistenza dell'uomo incappucciato. Sottolinea il procuratore di Bergamo, Walter Mapelli e afferma che non sono state trovate prove che confermino la presenza del fantomatico uomo con addosso il cappuccio della felpa che secondo Tizzani avrebbe ucciso sua moglie. In un'intervista al programma Chi l'ha visto Mapelli spiega che non vi sono prove neanche sull'altro incappucciato, quello di cui parla la nuora. Quello che pochi giorni prima dell'omicidio avrebbe suonato di notte alla famiglia di Paolo Tizzani, figlio della vittima. Il procuratore ha aggiunto che non c'è un testimone del delitto ma c'è qualcuno che ha sentito una discussione animata tra i coniugi. Inoltre riguardo alla presunta violenza domestica afferma Stiamo verificando indicazioni sulle lesioni subite dalla signora Gianna riconducibili a comportamenti violenti di altre persone non necessariamente del marito. Inoltre un coltello a serramanico è stato trovato in un beauty che utilizza Antonio nella casa del figlio Paolo perquisita per un paio di ore dai carabinieri del nucleo investigativo di Bergamo. Ricordiamo che il ferroviere in pensione vive lì dal 27 agosto ovvero dal giorno della morte della moglie. Dietro ai militari passo dopo passo seguiva l'avvocato Giovanna Agnelli che assiste l'uomo indadato per l'omicidio della moglie. Rispetto al coltello a serramanico l'analisi è uno scrupolo. La coltellata della vittima era profondissima inferta con una lama importante con rabbia secondo le ipotesi degli investigatori. L'oggetto non è stato analizzato a Bergamo invustato viene consegnato al laboratorio del RIS di Parma con altri reperti coltelli compresi sequestrati subito nella villetta del delitto. Saranno i carabinieri con il camice bianco a verificare se ci sono tracce sospette. Sangue prima di tutto. Al di là degli esiti colpisce che Antonio Tizzani sotto pressione per l'inchiesta che non ha parlato all'interrogatorio col pubblico ministero mentre si è mostrato più sciolto con i giornalisti si tenga un coltello nel beauty. Un ulteriore coltello con delle tracce è stato trovato in una siepe nei pressi della casa di Gianna del Gaudio. Lo riferisce Mediaset annunciando un'intervista a una vicina di casa della vittima. Anche questo coltello è al vaglio dei RIS di Parma. Successivamente emerge che c'erano anche un paio di guanti lattice nel sacchetto di plastica che avvolgeva il coltello trovato in una siepe tra via Cornagera e via Presanella a Seriate. Un ulteriore dettaglio che rafforza la convinzione degli inquirenti è quella lama potrebbe essere l'arma con cui è stata uccisa Gianna, la vittima. Il sacchetto è riconducibile a casa Tizzani perché è collegabile ad alcuni oggetti trovati nell'abitazione e acquistati in un particolare negozio diverso da un supermercato. I carabinieri tentano di ricostruire gli spostamenti del coltello dopo l'omicidio. Sorge spontanea una domanda se a colpire fosse stato uno sconosciuto che motivo avrebbe avuto di avvolgere la lama in un sacchetto trovato nella casa della donna per poi lasciare il tutto a 600 metri dal luogo del delitto? Sono troppi gli elementi che mettono in dubbio la versione data da Tizzani unico indagato per l'omicidio della moglie. Gli inquirenti non escludono che il cutter possa essere finito nella siepe non la notte dell'omicidio ma in giorni successivi forse precedentemente nascosto in un altro posto dall'assassino. Il consulente della difesa Giorgio Portera afferma con chiarezza Probabilmente si potranno anche trovare tracce del mio assistito resterà da capire quanto significative. Un'impronta organica pure e semplice non basterebbe a dimostrare la colpevolezza del marito di Gianna del Gaudio ne servirebbe una caratterizzante non basterebbe ad esempio una goccia di sudore o di saliva su quel sacchetto che si scopre essere di mozzarella. Sarebbe invece più significativa per l'accusa una goccia di materiale biologico del marito mista al sangue della vittima sulla lama sospetta oppure un'impronta digitale impressa sul sangue della prof uccisa rimasto sul cutter. Per rivelarsi decisivo nei confronti del marito quindi è necessario che il DNA porti gli investigatori nei dettagli non basta che dimostri un mero contatto in superficie. Il 24 ottobre si accerta che sui guanti ritrovati insieme all'arma del delitto non c'è il DNA di Antonio Tizzani ma quello di un ignoto maschile al momento non ancora identificato. L'esito delle prime analisi del RIS di Parma alimenta il mistero sull'omicidio di Gianna del Gaudio. Sull'esterno dei guanti lattici è rinvenuto il 6 ottobre dentro un sacchetto di mozzarella che veniva dall'abitazione della vittima insieme a un coltello da elettricista è stata trovata una traccia di DNA maschile assolutamente non compatibile con il profilo genetico dell'unico indagato il marito Antonio Tizzani. Inoltre il DNA non ha nemmeno affinità col marito della vittima il materiale isolato quindi non appartiene a nessuno dei due figli. Gli inquirenti decidono però di effettuare una comparazione diretta anche con i campioni di Mario e Paolo Tizzani. La traccia al momento è di un ignoto ed è ancora da decifrare a partire dal tipo di materiale non si sa se sia sudore saliva o altro ma non è materiale ematico. In contemporanea arriva una conferma alle indiscrezioni già emerse il cutter è l'arma del delitto sulla lama sull'impugnatura e anche sui guanti e sul sacchetto è stato trovato sangue di Gianna del Gaudio. Identificare l'ignoto è ora più che mai importante per poter capire che peso dare alla scoperta del RIS. Una premessa è fondamentale il sacchetto i guanti e il cutter possono essersi contaminati gli uni con gli altri. La firma degli ignoto era infatti sovrapposta al sangue della vittima potrebbe quindi trattarsi di una traccia biologica del commerciante che aveva venduto le mozzarella tizzani colata dal sacchetto fin sui guanti oppure del residente che ha trovato l'involucro nella sua siepe e ha poi chiamato i carabinieri e questi sono solo due esempi di quello che potrebbe essere successo ma in casi simili il dna al momento senza un nome perderebbe valore. Esistono altre ipotesi su cui i ragionamenti degli investigatori si sprecano in questa fase delle indagini. Se per esempio quel profilo genetico non appartenesse a nessuno della normale cerchia di frequentazione di tizzani e della moglie allora la pista dell'uomo misterioso che arriva e colpisce in una villetta a schiera in una notte di fine agosto sarebbe da rileggere sotto tutt'altra luce con tutta una serie di ma di un certo spessore. Può esistere un ladro colto da un raptus di violenza che uccide la padrona di casa preoccupandosi di infilarsi un paio di guanti in lattice per poi richiudere l'arma del delitto in un sacchetto trovato nell'abitazione e lasciare tutto il pacchetto a 600 metri dalla stessa casa? Ovviamente tutto può essere ma la logica porta a rispondere di no. A meno che l'uomo misterioso non sia un ladro ma qualcuno che agisce spinto da un altro movente che si è organizzato per utilizzare un certo tipo di guanti e ha poi preso dall'abitazione il sacchetto di cellofan intenzionato a farlo ritrovare per indirizzare comunque gli inquirenti sulle tracce di Tizzani o di chi frequentava casa sua. Non si scarta niente neppure l'ipotesi che per i carabinieri ha ancora parecchio credito la colpevolezza del marito di Gianna Del Gaudio e altre supposizioni partono da un ulteriore punto fermo. L'arma del diritto è macchiata del sangue della vittima ma non presenta altre tracce biologiche o impronte digitali. È stata utilizzata ripulita con cura dall'assassino. Gli investigatori non escludono inoltre che possa essere stata messa nel sacchetto di mozzarella dopo l'omicidio e dopo i primi rilievi dei carabinieri da qualcuno che può aver violato i sigilli dell'abitazione per utilizzare volontariamente il sacchetto e magari i guanti in lattice lasciati sul posto da un infermiere del 118. Con quale logica? Non sarebbe il primo caso in cui i dissidi familiari portano un parente del presunto omicida a voler mettere gli inquirenti sulle sue tracce. A quasi due mesi esatti dall'omicidio la morte di Giana del Gaudio disegna un labirinto da cui per ora non si esce. Il lavoro del RIS di Parma è fondamentale. Ci sono già una trentina di profili genetici parenti amici persone a contatto con la prof da confrontare con la traccia scoperta dal RIS. I carabinieri hanno prelevato ben 50 DNA ai vicini di casa ai soccorritori del 118 a corsi la notte del 27 agosto ai colleghi intervenuti sulla scena del crimine agli addetti delle pompe funebri e al commerciante che aveva consegnato le mozzarella a marito e moglie in una busta identica a quella nella siepe. Se il profilo appartenesse a uno di loro non si escluderebbe il depistaggio che ha ucciso avrebbe messo l'arma insieme ai guanti con la traccia di un'altra persona per allontanare da sei sospetti. Viene da chiedersi come avrebbe fatto ma in realtà quella notte nella villetta di via Madonna delle Nevi sono passate diverse persone e il caos non è mancato. Se il profilo rimanesse ignoto dall'altra parte verrebbe da chiedersi se esiste davvero l'uomo incappucciato di cui parla l'indagato nonostante le telecamere e le testimonianze lo smentiscano. Gli analisi non hanno rilevato impronte sul sacchetto e nemmeno sull'arma. L'assassino è logico pensare ha indossato i guanti per uccidere. Giorgio Portera genetista forense consulente di Tizzani spiega che è possibile ma bisogna verificare bene le circostanze che hanno portato al diposito della traccia. Ogni esito genetico deve sempre essere ben contestualizzato. Inoltre il sacchetto è rimasto esposto alla pioggia. Lo conferma il miscuglio di sangue ruggine e muffa sui reperti. Gli stessi guanti non sono del tutto integri ne sono stati prelevati anche a casa di Tizzani per il confronto merceologico. Il 30 novembre Antonio Tizzani riceve una notifica che potrebbe fare la differenza nell'indagine sull'omicidio della moglie per cui ha indagato. Riguarda nuove analisi a RIS alla presenza del suo consulente Giorgio Portera la cautela è massima perché è molto ancora va capito e spiegato ma c'è una traccia del suo DNA che sebbene contenuta per quantità non è trascurabile per rilevanza. È stata rilevata sulla lama del cutter trovato a ottobre avvolto nel sacchetto delle mozzarella dentro ricordiamo c'era anche un paio di guanti in lattice su cui è stato rilevato un altro DNA per ora ancora ignoto tutto all'interno era sporco del sangue della vittima un investigatore ha affermato che si tratta di un vero e proprio groviglio di tracce per far capire lo stato dei reperti e di conseguenza come non sia semplice distinguerne la natura e l'appartenenza dei DNA Portera e il genetista consulente di Tizzani rimane molto prudente cautela e attenzione sono le sue parole a corredo della notizia del DNA trovato sul cutter utilizzato per uccidere Gianna Del Gaudio il marito è l'unico indagato il profilo genetico sull'arma sembra appartenergli ma il dato va approfondito Portera partecipa all'analisi del RIS sono stati prelevati altri campioni sul taglierino commenta il profilo che in questo momento viene ritenuto di Tizzani è parziale con difficoltà di interpretazione siamo ancora in una fase di approfondimento quindi va prestata molta attenzione prima di ritenere che gli appartenga è una questione di marcatori quelle piccole particelle che compongono un profilo genetico e che determinano o meno la corrispondenza tra un DNA e l'altro per trovare il DNA attribuito ad Antonio Tizzani i carabinieri del RIS hanno dovuto smontare il cutter con il sangue di sua moglie Gianna è l'arma del delitto con tutta probabilità ma sarà il medico legale a indicare se è compatibile con il taglio alla gola inferto alla professoressa per il momento il reperto è ancora sotto esame da parte degli uomini in camice bianco di Parma la traccia genetica è piccola ma il punto in cui è stata rilevata è significativo si trova infatti sulla parte di lama coperta dall'impugnatura in plastica non su quella esposta se le analisi successive confermassero che il profilo genetico appartiene al marito della vittima unico indagato del delitto significherebbe che il ferroviere in pensione ha maneggiato il cutter prima che questo venisse utilizzato per uccidere prima perché sul resto dell'arma non sono stati rilevati altri DNA e dunque chi ha sgozzato la professoressa ha indossato i guanti pur con tutti i se e i ma il dato colpisce alla luce delle dichiarazioni di Tizzani ai giornalisti l'uomo ha infatti detto alla stampa non ho mai visto né utilizzato quel taglierino come c'è finito quindi il suo DNA sull'oggetto in questione secondo Andrea Verzeletti dell'università di Brescia la lama del cutter è astrettamente compatibile con l'ampia ferita al collo della vittima in breve l'arma potrebbe essere quella ma non ci sono certezze granitiche al PM Laura Cocucci serve una proroga delle indagini prima di decidere se chiedere il processo dettagli per scrupolo perché i carabinieri hanno lavorato a lungo e da tempo sul caso Tizzani si mostra sicuro dicendo quello che decide decide ma io che cosa ho fatto non ho fatto niente se sono innocente possono dire quello che vogliono la mia versione è sempre la stessa da quella trago forza devo avere non dare una risposta da settimane l'uomo è tornato a vivere nella casa rimasta a lungo sotto sequestro per permettere ai carabinieri del RIS di tornare più volte per i sopralluoghi la prima sera che ha chiuso la porta alle sue spalle ha descritto la scena in questo modo mi sono appoggiato al tavolo ho guardato dove c'era Gianna e ho detto amore mio che ti è successo chi è stato perché ti hanno fatto questo sono le domande che mi giro e rigiro in testa è disponibile a parlare dice che deve sistemare ancora qualche quadro voglio che le cose tornino tali e quali voglio lasciare tutto com'era dice l'uomo racconta di quando da ragazzo seguiva il padre al lavoro anche marinando la scuola a volte però si nervosisce e cambia registro infilando qualche parola colorita se si insiste sulle indagini per esempio se si domanda se la sua versione dell'uomo incappucciato che ha visto in casa è sempre la stessa risponde perché ce ne dovrebbe essere un'altra no altri dettagli non mi sono venuti in mente aspetto che me li dicano gli inquirenti ho fiducia in loro i carabinieri però ritengono che le sue parole siano smentite dalle telecamere che nel raggio di 300 metri attorno a casa non hanno ripreso nessuno e dai testimoni che rincasavano ma disconosciuti non ne hanno visti a riguardo Antonio Tizzani afferma ma dove sono le telecamere? vado a lei a farsi riprendere vediamo se si vede qualcosa poi mi dice sia torto del DNA sul cutter infilato in una siepe e che secondo il ris è suo obietta ho letto che non c'è niente di mio c'è il sangue di mia moglie il DNA in effetti è un dato controverso secondo gli inquirenti il numero dei marcatori basta per tracciare un profilo e soprattutto è un indizio interessante il fatto che la traccia è stata trovata sulla parte della lama coperta dall'impugnatura quindi non può essere l'effetto di una contaminazione dal sacchetto il cutter è stato impugnato Tizzani e i giornalisti se ricordate ha però detto di non averlo mai visto poco conta secondo il suo consulente il genetista forense Giorgio Portera perché il profilo è parziale conta invece che di profilo ce ne sia un altro sui guanti e che sia ancora ignoto questa però non è un'indagine prevalentemente genetica i carabinieri hanno raccolto testimonianze e altri elementi Antonio riguardo al possibile processo afferma se sono preoccupato di andare a processo no perché non ho fatto nulla Tizzani ha ricevuto l'avviso di chiusura delle indagini alla fine del mese di dicembre del 2018 ha 20 giorni di tempo per scegliere con l'avvocato Giovanna Agnelli se farsi interrogare poi sarà il PM a decidere e salvo colpi di scena è logico aspettarsi che chiederà il processo all'accusa di omicidio si aggiunge quella di maltrattamenti che fino ad oggi aveva fatto da sfondo più come indiscrezione che ipotesi messa nero su bianco ora nel capo di imputazione è riportato che Tizzani dal 2007 al giorno del delitto sia il 27 agosto 2016 in più occasioni ha preso la moglie a sberle l'ha tirata per i capelli l'ha fatta cadere le ha lasciato dei lividi sulle braccia e sul volto ha controllato dove andava guardato il suo telefono e l'ha insultata secondo il PM l'uomo era geloso accusava Gianna di avere una relazione con un collega insegnante c'è inoltre un'intercettazione in cui Tizzani è solo in macchina con una canzone in sottofondo piange parla della moglie è un uomo disperato che si interroga ma su cosa? averle fatto del male oppure non essere riuscito a difenderla? non è chiarissimo ma in un eventuale processo a Tizzani verrà chiesto di spiegarlo Gianna del Gaudio vi ricordo viene ritrovata in cucina in un lago di sangue alcune tracce ematiche della vittima sono state rinvenute anche sul bordo del lavandino del bagno fanno parte degli accertamenti irripetibili a cui ha partecipato il consulente della difesa il genetista portera secondo gli inquirenti quel sangue l'ha lasciato Tizzani lavandosi dopo il delitto ma sul dato ci si può aspettare battaglia dalla difesa perché trovare anche tracce ematiche di chi vive in casa può non essere così straordinario un uomo e una donna che litigano lui urla forte mentre la voce di lei è sempre più labile poi cala il silenzio e un quarto d'ora dopo l'uomo grida di nuovo i due testimoni che riconoscono la stessa voce maschile non sono però stati in grado di riportare con certezza le parole secondo la procura la persona che urlava era Tizzani una volta uccisa la moglie poco dopo la mezzanotte il ferroviere in pensione davanti al PM si avvale della facoltà di non rispondere è una linea difensiva più che la sua volontà in quanto con i giornalisti Antonio parla molto racconta in mima di aver sorpreso un uomo incappucciato fuggito poi dalla porta finestra della cucina e in seguito aggiunge dettagli come il fatto che lo sconosciuto avesse le mani nere le dichiarazioni giornalisti chiaramente verranno acquisite altre tracce matiche sono rinvenute sullo stipide della porta finestra della cucina secondo gli inquirenti sono il segno di una chiusura dall'interno ulteriori tracce vengono trovate sul cancello e su un cespuglio vicino alla recinzione l'ipotesi dell'accusa è che le ha lasciate Tizzani uscendo per nascondere l'arma oppure per sminuire la richiesta di aiuto secondo la difesa invece le impronte le ha lasciate lo sconosciuto scappando c'è del sangue anche sulla borsa della vittima ma nessuna impronta da nessuna parte sul cutter trovato il 6 ottobre in una siepa a 600 metri dalla casa del delitto analizzato dal race c'è il dna di Tizzani il dna è indiziante secondo il pm perché il cutter è l'arma il profilo genetico è sulla parte della lama sotto l'impugnatura ma Tizzani dice ai giornalisti di non aver mai visto quell'oggetto sul cutter però c'è anche un altro dna ma il nodo è il profilo isolato nei due guanti viene confrontato con il dna di tutti coloro che sono intervenuti sulla scena del delitto senza esito il dna ignoto viene confrontato con le banche dati ma nessuno combacia l'avvocato giovanna agnelli ha chiesto una copia degli atti la scelta difensiva e processuale dipende da cosa troverà nelle carte dell'indagine la difesa conosce una parte delle indagini genetiche quella degli accertamenti irripetibili a cui ha partecipato il consulente porterà a fermo sarà interessante capire se ci sono anche accertamenti irripetibili che non ci sono stati comunicati sui guanti e che spero siano inseriti in questo fascicolo se verrà presa la strada del dibattimento senza riti alternativi il processo ad Antonio Tizzani per l'omicidio della moglie sarà come una partita a scacchi accusa e difesa studieranno guarding le reciproche mosse si intuisce fin da subito l'avvocato Giovanna Agnelli non ha chiesto l'interrogatorio del suo assistito e si capisce perché Tizzani ha sempre parlato molto con i giornalisti mentre davanti al PM Laura Cocucci è rimasto zitto su consiglio del difensore inoltre la difesa non ha presentato una memoria di conseguenza per dirla con le parole del procuratore Walter Mapelli senza novità difensive era ovvio che gli elementi raccolti giustificassero la richiesta di un processo le premesse quindi annunciano un'accesa battaglia sul delitto della professoressa l'avvocato di Antonio commenta ci aspettavamo una richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero avendo ricevuto un avviso di conclusione delle indagini e non avendo depositato memoria né richiesto l'interrogatorio nei 20 giorni dalla notifica tuttavia da una prima analisi degli atti comprensivi sia delle immagini scientifiche che di quelle investigative non ho letto elementi sulla base dei quali sia sostenibile un'accusa in giudizio sia del reato di omicidio che di quello di maltrattamenti salvo colpi di scena a luglio poco o nulla sarà cambiato Giorgio Portera il genetista consulente del ferroviere in pensione ha affermato i vari test del dna su reperti e ambienti non solo non dimostrano la colpevolezza di tizzani ma indicano una concreta pista alternativa ma la procura non ha dubbi il 26 agosto 2016 a uccidere con una coltellata la gola l'ex professoressa di 68 anni è stato il marito l'uomo che per anni l'aveva sottoposta a reiterati abituali atti di violenza fisica e psichica nell'ottica del pm l'accusa di maltrattamenti rafforza quella di omicidio così come ha non peso le dichiarazioni del ferroviere in pensione sempre fatte ai giornalisti mai al pm sull'assassino incappucciato che avrebbe sorpreso in casa ma che nelle indagini dei carabinieri non ha trovato riscontri c'è invece il dna dell'imputato sul cutter ritenuto l'arma del delitto ma che lui dice di non avere mai visto una delle obiezioni della difesa ricordiamo che nel sacchetto delle mozzarelle identico a quello consegnato in casa tizzani sono stati trovati anche un paio di guanti con un dna ignoto quanto ai maltrattamenti tizzani ha raccontato più volte ai giornalisti che la moglie era finita al pronto soccorso per degli incidenti una caduta sull'autobus per esempio se verrà confermata la scelta difensiva le due tesi si confronteranno a processo è logico pensare che nel corso del procedimento verranno analizzate e valutate alcune testimonianze significative quella delle vicine di casa che la nota del delitto hanno sentito un uomo e una donna discutere lui a voce alta e lei più sommessa poi solo lui urlare perché l'hai fatto? una frase che non è mai stata chiara inoltre nel luglio del 2019 Mario il primo genito di Antonio e Gianna ha ammesso mio padre sferrava delle violente sberle facendola barcollare o tirava i capelli a mia madre sempre per motivi futili tra i quali ad esempio una portata servita in ritardo o non come a lui gradita ricordo che in alcune circostanze le ha dato delle sberle con il dorso della mano tesa con l'anello caratterizzato dal freggio araldico famiglia Tizzani che in più di un'occasione aveva notato aver creato ferite sul labbro di mia madre facendo riuscire il sangue Mario confida di essersi messo di mezzo più volte tra i genitori per difendere la madre e di averle chiesto di denunciare il padre mia madre mi diceva che comunque lo amava addirittura ricordo che era costretta a truccarsi il viso per nascondere i segni delle botte perché il giorno dopo doveva presentarsi a scuola davanti agli alunni e ai colleghi sono stati acquisiti anche i referti del pronto soccorso il figlio minore Paolo conferma abbiamo assistito a dei frequenti litigi nel corso dei quali mio padre aggrediva mia madre prima verbalmente offendendola con oggettivazioni del tipo zoccola stai zitta tu non capisci niente cretina sia a mia presenza che in presenza di Mario spesso con aggressioni fisiche quello che si aprirà sarà quindi un processo indiziario è quasi certo che i due fratelli Tizzani saranno chiamati a rispondere sulla situazione in famiglia l'ipotesi dell'accusa è chiara Tizzani marito violento ha ucciso al culmine dell'ultimo litigio forse innescato da qualche bicchiere di troppo la notte dell'omicidio quando Antonio arrivò in via delle valli con gli abiti puliti e senza tracce di sudore gli venne fatto l'etilometro il livello risultò basso ma dalla cena erano passate ore a sostegno della tesi della lite l'accusa ha diverse testimonianze quella del vicino più prossimo alla villetta riferisce di aver sentito urlare marito e moglie poi soltanto la voce di lui e indica un orario preciso compatibile a quello dei fatti poi ci sono due ragazze che chiacchieravano in un'auto parcheggiata non lontano una di loro ha affermato secondo quanto riportato dalla trasmissione quarto grado la nostra attenzione veniva attirata dalle urla molto forti di un uomo erano urla rabbiose l'uomo appariva estremamente alterato e la voce era roca ho compreso solo le parole non è possibile cazzo e a tratti sentivo la voce molto flebile di una donna che piangeva disperata ciò è durato circa 20 minuti ovvero fino a mezzanotte e 35 una delle due ragazze è inoltre riconosciuto alla voce di Antonio in caserma per coloro che hanno indagato su Tizzani il suo tono giocoso dopo l'omicidio è indicativo della sua indole Antonio ha sempre raccontato di un uomo incappucciato che si è infilato in cucina mentre lui era in giardino l'avvocato Agnelli per ora si limita a commentare le deposizioni dei figli sui presunti maltrattamenti fanno riferimento a un periodo differente da quello contestato sono dichiarazioni da vagliare e capire mercoledì 4 dicembre 2019 inizia il processo in cui Antonio Tizzani è imputato per l'omicidio della moglie Gianna Del Gaudio la battaglia principale in fase di eccezioni preliminari è stata sul DNA rilevato sul cutter trovato nella siepe poco distante dalla villetta del delitto l'avvocato Giovanna Agnelli è tornata a sollevare la questione già presentata nel corso dell'udienza preliminare non siamo stati avvisati del prelievo quindi è nullo non possiamo escludere che ci sia stata contaminazione perché poco prima a RIS erano state aperte le buste con i tamponi salivari del mio assistito dunque secondo RIS quel DNA è di Tizzani l'avvocato aggiunge ma dopo un secondo prelievo a cui abbiamo partecipato il profilo del signor Tizzani non è emerso il PM Laura Cocucci respinge l'eccezione ripercorrendo date e contenuti dei verbali del RIS sostiene che gli avvisi sono stati regolari e pertanto è valido anche il test che dal punto di vista genetico è la prova principale a carico dell'imputato la corte d'assise presieduta dal giudice Giovanni Petillo dovrà decidere sull'eccezione della difesa relativa al DNA sul tagliarino e ad altre tre relative all'esclusione di alcuni decreti di intercettazione dalle conversazioni di Tizzani con i giornalisti e all'ingresso del processo degli esiti e del filmato di un sopralluogo della villetta del delitto da parte della difesa con il suo consulente il genetista Giorgio Portera durante il processo il 15 gennaio testimoniano i primi due carabinieri accorsi nella villetta di Seriate e il personale del 118 sei soccorritori e l'autista dell'ambulanza secondo quanto riportato dai soccorritori quella notte ha urlato me l'hanno ammazzata se non la lasciavo sola a dieci minuti sarei morto anch'io l'uomo stando ai testimoni era molto agitato e arrabbiato perché a suo dire l'ambulanza era arrivata tardi su domanda del PM Laura Cocucci che a Tizzani contesta anche anni di maltrattamenti fatti subire alla vittima i soccorritori hanno spiegato che tipo di guanti avevano usato per tentare in vano di fermare l'emorragia hanno spiegato che usano sempre guanti azzurri tutto il materiale terminato ogni intervento viene poi portato via dallo stesso personale è facile capire dove l'accusa voglia andare a parare c'era un paio di guanti bianchi in lattice nel sacchetto dove è stata trovata l'arma del delitto il cutter è probabile che il PM voglia chiarire che non si trattava di guanti usati dai soccorritori una nuova udienza per l'omicidio di Gianna Del Gaudio si tiene mercoledì 22 gennaio 2020 questa volta parlano i vicini di casa e le persone che la sera dell'omicidio erano nella zona come la ragazza che era in auto con un'amica racconta come già vi ho detto di aver sentito una lite tra un uomo e una donna tra mezzanotte e un quarto e mezzanotte e mezza la ragazza ha poi riconosciuto in caserma la voce di Antonio Tizzani la stessa che aveva sentito durante quella lite stesso racconto viene fatto da un'altra donna che vive nella zona anche lei ha sentito un litigio tra un uomo e una donna altri vicini raccontano invece di aver sentito soltanto le urla di un uomo a mezzanotte e tre quarti quindi nella fase successiva al delitto visto che a mezzanotte e cinquanta sono arrivati i carabinieri e i soccorsi probabilmente le urla erano quelle di Antonio Tizzani il marito della vittima al processo per l'omicidio di Seriate è stato trasmesso l'audio della telefonata che il marito della vittima fece al numero unico di emergenza 112 subito dopo il delitto correte correte hanno fatto del male a mia moglie c'è sangue un delinquente ha toccato la borsa a terra Tizzani è agitato l'operatore cerca di calmarlo e gli dice di provare a chiamare la moglie per capire se è viva l'ex ferroviere chiama Gianna amore e poi all'operatore dice che la moglie non risponde tra i testimoni il maresciallo maggiore Giovanni Sciusco della scientifica dei carabinieri la persona che ha ricostruito la scena del delitto anche attraverso le tracce di sangue i medici legali consulenti del PM non possono escludere che il cutter trovato nella siepe sia stato usato per uccidere la professoressa nella sua casa di seriate al processo parlano i dottori Andrea Verzeletti e Francesco De Ferrari risposte nette non ne arrivano ma ipotesi sì il cutter potrebbe essere l'arma del delitto sempre che l'assassino abbia esercitato una grande forza è probabile che la professoressa sia stata presa alle spalle lo indica la ferita da sinistra a destra dal basso verso l'altro ma non si può nemmeno escludere che sia stata colpita frontalmente il presidente della corte d'assese Giovanni Petillo va dritto al punto chiedendo senza sapere del rinvenimento di un cutter quale tipo di arma può provocare questa ferita De Ferrari descrive le caratteristiche da taglio con un margine affilato di una certa massa con una discreta forza utilizzata alla domanda avreste mai pensato a un cutter i medici legali concordano uno così piccolo no le indagini hanno ricostruito il delitto con la vittima che dava le spalle al suo assassino mentre stava lavando i piatti quando è arrivato uno dei figli l'acqua ancora scorreva nel lavandino inoltre il tappetino ai piedi della donna era arricciato su se stesso per il movimento del corpo finito a terra anche se i medici legali non escludono che l'aggressione sia avvenuta frontalmente De Ferrari si spinge sull'altra ipotesi per provocare una lesione così profonda nella parte anteriore l'aggressore necessita di una notevole forza perché la vittima cerca di spostarsi da dietro invece c'è una compressione del corpo dell'aggressore sulla vittima se inferto da dietro il taglio è stato da sinistra verso destra e in questo caso l'assassino non può essere mancino il taglio inoltre è dal basso verso l'alto da qui un altro interrogativo sollevato dall'avvocato di Tizzani Giovanna Agnelli in aula con il genetista portera l'aggressore poteva essere più basso e meno robusto della vittima secondo i medici legali è altamente improbabile che fosse più basso se ha colpito alle spalle ma il PM ribatte e i consulenti concordano se la vittima fosse stata piegata l'altezza non sarebbe rilevante il presidente chiede risposte concrete quanto più alto deve essere stato l'assassino Gianna Del Gaudio era un metro e 66 centimetri la ferita a un metro e 45 fatti conti la risposta è dal metro e 60 in su il processo prosegue con testimonianze che raccontano le tensioni nella vita di coppia dei due l'ex nuora di Antonio Erika Messi è tra le persone che vengono chiamate a deporre l'ex moglie tra il 2007 e il 2016 del figlio della coppia Mario Tizzani parla di episodi di aggressività di Tizzani verso la moglie alla domanda del PM Laura Cocucci sui rapporti tra gli ex suoceri la donna spiega spesso lui era aggressivo sia a parole che fisicamente gli episodi riportati sono di un'abituale violenza verbale prima di tutto Tizzani si rivolgeva a Gianna con parolacce che cazzo fai spesso le dava della scema oppure secondo la Messi usava altri epiteti pesanti non solo in qualche occasione stando all'ex nuora l'uomo spingeva Gianna contro il muro le tirava oggetti e le tirava i capelli e di episodi Erika Messi ne racconta altri da quando mi ero sposata quasi ogni giorno ero a casa dei miei suoceri per pranzo o per cena e in due o tre occasioni ho visto Tizzani puntare il contello contro la moglie ruotandolo e dicendole ti taglio i viveri la difesa dell'imputato con l'avvocato Giovanna Agnelli contesta alla Messe di aver raccontato queste cose in fase di indagine spiegando che venivano dette da Tizzani in tono scherzoso il testimone in aula chiarisce a volte le diceva in tono scherzoso a volte no arriviamo a martedì 20 ottobre 2020 quando riprende il processo in tribunale a Bergamo parlano il figlio di Tizzani Mario la sua compagna Alessandra Manenti e la mamma di lei Francesca Fascio al centro dell'udienza le intercettazioni in particolare alcune parole tra Tizzani e il figlio Mario risulta che Mario abbia incalzato il padre chiedendogli voglio sapere chi l'ha uccisa e Tizzani abbia risposto l'ho uccisa io ma devono dimostrare i tempi è quanto emerso da un dialogo intercettato tra Mario e la compagna Alessandra ed è su questo scambio che l'accusa ha chiesto delucidazioni ai due in particolare in un'intercettazione Alessandra chiede a Mario se non è il caso di riferire ai carabinieri quanto detto dal suocero in aula la donna ha spiegato che quelle parole per loro non sono una confessione e lo ha capito dopo aver parlato con Mario quando Tizzani ha detto quelle cose secondo la nuora era esasperato si era trasferito in casa con loro in quel periodo e litigavano spesso Alessandra ha infatti affermato altrimenti sarei stata la prima ad andare a denunciarlo Mario ha confermato la ricostruzione della compagna al termine di una lunga udienza dopo le deposizioni come testimoni di Paolo Tizzani e della moglie Elena Foresti il figlio e nuora dell'imputato ci sono novità il colpo di scena che aggiunge elementi al materiale raccolto dall'accusa è arrivato con la deposizione di un maresciallo dei carabinieri che ha curato le intercettazioni telefoniche e ambientali l'imputato Antonio Tizzani nei mesi successivi al delitto della moglie ha parlato più volte da solo nella sua Fiat Bravo e sono state tre le frasi captate dai carabinieri che potrebbero rivelarsi importanti per il processo una già nota è cosa ho fatto cosa ho fatto ma altre due presentano contenuti più netti e sono datate 10 febbraio 2017 ho ucciso un angelo e ho ammazzato mia moglie per quanto riguarda le deposizioni del figlio e della nuora invece il PM Laura Cocucci ha chiesto alla corte d'assise la trasmissione degli atti della procura insinuando il dubbio di una falsa testimonianza proprio da parte di Paolo Tizzani ed Elena Foresti in più passaggi in aula marito e moglie hanno sminuito o negato oppure ampiamente rivisto dichiarazioni che avevano reso a verbale tra settembre e ottobre 2016 soprattutto sui rapporti che c'erano tra i due genitori il 10 febbraio 2017 intercettato Antonio Tizzani si era sfogato da solo in auto cosa ho fatto ho ammazzato mia moglie in quel modo dio perché so solo che sono rimasto solo come un cane voglio morire nella lunga deposizione del 27 ottobre il PM Laura Cocucci ha chiesto conto anche di questa frase al ferroviere in pensione Tizzani ha spiegato mi facevo delle domande da solo perché mi accusavate tutti precisando poi aiutato dal suo avvocato Giovanna Agnelli che si sentiva in colpa per non avere impedito che la moglie venisse ammazzata l'accusa ha chiesto ad Antonio di rispondere su più punti innanzitutto i presunti maltrattamenti di cui è accusato l'uomo risponde sberle non ce ne sono mai state con quello che mi era costata 24.000 euro per rifare i denti a mia moglie ma ammette qualche schiaffo alla nuca per dire di smetterla tutto sarebbe però avvenuto a suo dire in discussioni che si chiudevano subito finiva là anzi l'ultima parola era sempre la sua eravamo liberi andavamo fuori a mangiare sulla sera del delitto nega che ci sia stata una lite e ribadisce quando sono rientrato dopo avere annaffiato il giardino ho visto un uomo con una felpa e il cappuccio alzato e racchino sulla borsetta tizzani non lo ha visto in volto riferisce che nelle mani aveva solo un foglietto mani scure forse sporche di sangue forse abbronzate comunque non con guanti in lattice l'ha inseguito verso la cucina dove ha poi visto il corpo della moglie steso in una pozza di sangue la pm laura cocucci chiede la condanna all'ergastolo per antonio tizzani ergastolo per aver ucciso sua moglie gianna del gaudio in aula la pm afferma tizzani ha brutalmente ucciso la moglie capro espiatorio delle sue frustrazioni per la vita da pensionato senza più stimoli io a questa affermazione del pm sono rimasta un attimino interdetta perché a mio avviso ha ucciso la moglie come capro espiatorio delle sue frustrazioni per la vita da pensionato senza più stimoli ma davvero si commette un omicidio per questo motivo qui sono rimasta un po' fatemi sapere poi voi che cosa ne pensate nei commenti ma procediamo inoltre il dna di tizzani trovato sul cutter messo nel sacchetto delle mozzarella è una prova mentre il dna di ignoto sui guanti trovati sempre nel sacchetto delle mozzarella resta senza una spiegazione la pm aggiunge che ripercorrendo le testimonianze la versione dell'uomo sull'incappucciato che secondo tizzani avrebbe ucciso la donna è contraddittoria e inverosimile il 2 dicembre 2020 l'avvocato di tizzani giovanna agnelli dopo due ore di arringa chiede l'assoluzione del ferroviere in pensione sia per l'accusa di omicidio della moglie che per quella di maltrattamenti la difesa sostiene che l'omicidio è stato un agguato e non il culmine di una lite tra coniugi come afferma il pm Laura Cocucci che ha chiesto la condanna all'ergastolo per l'appunto sempre secondo i difensori nessuno ha sentito Gianna gridare e le uniche urla sono di tizzani per la disperazione dopo aver trovato il corpo della moglie in un lago di sangue inoltre l'avvocato sostiene il marito non avrebbe potuto uccidere la moglie senza sporcarsi di sangue e i vestiti erano puliti io penso che questo indizio sia essenziale importantissimo risulta difficile che tizzani colpendo la moglie in quel modo non si sia macchiato di sangue no? quanto al dna di tizzani sul taglierino trovato nella siepe l'avvocato in base alla consulenza del genetista Giorgio Portera ha spiegato che il profilo dell'imputato può esserci finito per contaminazione in laboratorio oppure nel sacchetto di mozzarella che l'assassino ha preso in casa tizzani per avvolgere l'arma ritrovata in un secondo momento insieme a un paio di guanti con dna ignoto per l'accusa invece il dna di tizzani è la prova del delitto la logica è ricorrente nella sentenza di assoluzione di antonio tizzani dall'accusa di aver maltrattato e ucciso la moglie è il filo conduttore delle 85 pagine a firma del presidente della corte d'assise Giovanni Petillo in cui si rivendica il ruolo del giudice nel difficile equilibrio tra diritto e scienza in questo caso il dna trovato sull'arma un cattere che per il PM Laura Cocucci è la prova contro l'imputato per la corte d'assise è mero indizio sostenere che dal mero rinvenimento sull'arma del delitto della traccia biologica di un individuo se ne debba inferire la responsabilità significherebbe compiere un salto logico potendo essere molteplici le cause che possono aver determinato quella contaminazione e potendosi rinvenire sulla stessa traccia di altri soggetti come il dna ignoto sulla lama è tenuto conto che l'ipotesi di contaminazione addombrata dal consulente della difesa Giorgio Portiera viene ritenuta un'eventualità tutt'altro che remota secondo la corte è possibile che sia successo il laboratorio oppure per trasferimento dal sacchetto di mozzarella di casa tizzani in cui l'arma è stata rinvenuta più in generale il presidente ammette la tentazione di riconoscere sempre maggior peso ai contributi della scienza così come il limite di conoscenza scientifica del giudice ma questo non può determinare la critico affidamento ai risultati dei periti dal punto di vista scientifico però è rimasta un'ombra su questo delitto e la sentenza ne dà atto nell'appello il PM Laura Cocucci rivendica la dignità di prova l'unica per il dna di Antonio Tizzani sul taglierino usato per uccidere la moglie quella notte tra il 26 e 27 agosto del 2016 i risultati delle indagini genetiche sull'arma del delitto sono dirimenti scrive nelle 72 pagine di ricorso la versione falsa dell'imputato le intercettazioni il PM è convinto della sua ricostruzione dei fatti che per la corte d'assise non poggia su una solida base probatoria necessaria per pervenire al di là di ogni ragionevole dubbio ad una decisione di condanna e chiede ciò che in primo grado era stato respinto acquisire le interviste audio video in cui Tizzani parla dell'incappucciato e che potrebbero apportare ulteriori elementi di prova per dimostrare le contraddizioni e la falsità della versione fornita per la corte sarebbe un salto logico sostenere che se c'è il dna c'è anche la responsabilità anche perché ha dato credito all'ipotesi di contaminazione adombrata dalla difesa cosa che il pm esclude richiamando il ris è stata rispettata la buona pratica di laboratorio citata in tutte le linee guida del mondo di non lavorare contemporaneamente il campione di confronto e la traccia quanto al valore di prova il dato della presenza del dna sul cutter deve essere letto in correlazione con la dichiarazione di Tizzani che ha escluso di averlo mai utilizzato in altre circostanze quindi l'ha maneggiato per uccidere lasciando la propria traccia nella parte di lama coperta dall'impugnatura il processo d'appello per Antonio Tiziani assolto in primo grado dall'accusa dell'omicidio della moglie riparte proprio dal dna sul dna il sostituto procuratore generale ha chiesto il confronto tra il ris e il genetista giorgio portera consulente della difesa sul tema della contaminazione un'ipotesi del consulente escluse invece dal ris il profilo genetico in questione è quello di Antonio Tizzani ritrovato sul cutter l'arma del delitto nascosta in una siepe dentro un sacchetto di mozzarella il suo avvocato Giovanni Agnelli non si è opposto al confronto pur ritenendolo ininfluente sulle conclusioni del ris e di portera già rese al processo di primo grado la corte d'assise d'appello ha deciso di sentire il tenente colonnello del ris Alberto Marino il maresciallo del ris Dario Capatti e portera se non un confronto un contraddittorio nel corso della stessa udienza sono stati sentiti anche Mario Tizzani uno dei due figli dell'imputato e la sua compagna la corte consente anche a sentire altri sei testimoni tra i quali le due ragazze che la noto del delitto mentre erano ferme in automobile sentirono un uomo urlare e una di loro una voce flebile di donna risposta negativa invece per l'acquisizione delle video interviste di Tizzani chiesta dall'accusa e già respinta in primo grado la difesa si è opposta nuovamente il DNA di Antonio Tizzani sul cattere usato per uccidere sua moglie Gianna può essere frutto di contaminazione la contaminazione in laboratorio è probabile sostiene ancora una volta il genetista della difesa Giorgio Portera è altamente improbabile invece la tesi del maresciallo capo del ris Dario Capatti che effettuò le analisi perché due conclusioni così opposte Portera ha spiegato che il tampone salivare di Tizzani per il confronto è stato aperto prima delle analisi del cutter da cui poi emersi il DNA dell'imputato questo unito al fatto che il profilo genetico per quantità è al limite dell'interpretazione secondo il consulente apre la strada alla possibilità della contaminazione anche perché come rivelato in udienza dall'avvocato Giovanna Agnelli e dallo stesso portiera ponendo la questione al maresciallo del ris la contaminazione era già emersa nell'analisi sul sacchetto delle mozzarella in cui è stata trovata l'arma per il maresciallo capo invece la contaminazione è da escludere sono state rispettate le regole delle procedure e inoltre come ha fatto notare in quei giorni sono state effettuate numerose altre analisi per altri casi da diversi colleghi eppure gli strumenti del ris non hanno rilevato nessuna contaminazione perché dunque in questo caso dovrebbe essere avvenuta la fantomatica contaminazione il primo luglio 2022 ha parlato Antonio Tizzani dell'uomo misterioso quell'uomo aveva il cappuccio della felpa in testa baffetti biondi gli occhiali doveva avere le mani sporche di sangue era covacciato di spalle ma poi l'ho visto di lato e per la prima volta da un nuovo identikit dell'assassino dopo cinque ore e mezza di camera di consiglio la corte di assise di bergamo conferma in appello l'assoluzione dell'ex ferroviere Antonio Tizzani nell'udienza del 7 ottobre 2022 il sostituto procuratore generale Francesco Rombaldoni ha chiesto la condanna per omicidio ma l'assoluzione per i maltrattamenti l'altro reato di cui l'imputato è accusato il dna le testimonianze della nota del delitto e la versione di Tizzani sono i passaggi centrali riprendendo i chiarimenti del maresciallo del RIS il sostituto procuratore generale ha concluso che l'ipotesi difensiva della contaminazione del cutter con il dna dell'imputato sia altamente improbabile ha ripercorso quattro testimonianze che quella notte hanno sentito un furioso litigio tra un uomo e una donna sostenendo anche che anche per una questione temporale non è possibile che i testimoni abbiano scambiato questi urla per le imprecazioni di Tizzani dopo aver trovato la moglie morta mentre a proposito della versione dell'imputato che ha sempre accusato un uomo incappucciato di essere l'assassino della moglie è stato detto Tizzani non ha indicato una persona qualsiasi ma quell'uomo già indicato in famiglia con il nomignolo incappucciato che inseguiva la nuora un uomo che non esiste per stessa ammissione successiva della nuora l'avvocato Agnelli aveva già confermato che avrebbe chiesto la conferma della soluzione per entrambe le accuse in aula ha ribadito l'ipotesi della contaminazione perché il tampone salivare di Tizzani era stato aperto prima del prelievo di DNA sul cutter da cui emerse il profilo genetico dell'imputato e le testimonianze nessuno ha sentito litigare le urla che i testimoni hanno sentito sono quelle di Tizzani una volta scoperto il corpo della moglie la difesa sostiene che l'imputato non mente la corte d'assise si ritira alle 12.30 e la sentenza è pronunciata alle 18.10 assoluzione nel rispondere alle domande dei giornalisti Tizzani afferma se è stata fatta giustizia per me ma non per mia moglie e aggiunge a proposito dell'assassino trovatemelo penso sia un maschio con quello che ha fatto il volto del ferroviere appena uscito alla corte sembra teso ma dopo la lettura della sentenza è tornato il Tizzani sicuro di sempre mi hai mai visto disperato? potrebbe continuare all'infinito sono sempre quello pensa Gianna dice usando una delle sue frasi bizzarre vorrei che mi trovasse lei l'idea di chi le ha fatto questo la difesa con l'avvocato Giovanna Agnelli e il genetista Giorgio Portera ha ribadito un appello quanto detto in primo grado non siamo stati avvisati dal RIS per il prelievo del DNA sul cutter da cui poi è emerso il profilo genetico dell'imputato sono esami da compiere in contraddittorio ma il PM ha spiegato come gli ulteriori prelievi fossero la continuazione dei primi per i quali la difesa era stata formalmente avvisata sul punto la corte d'assise d'appello del presidente Giulio De Antoni nel finale delle 70 pagine di motivazioni con cui ha respinto il ricorso del PM Laura Cocucci confermando la soluzione di Tizzani scrive che l'accertamento tecnico è da dichiarare nullo Antonio Tizzani davanti ai giornalisti ha imitato il movimento che stando al suo racconto aveva fatto l'assassino per scappare si era accovacciato a terra spostandosi lateralmente quella ricostruzione diversamente da quanto ritenuto dal pubblico ministero appare sufficientemente credibile nelle 70 pagine di motivazioni la corte d'assise d'appello smonta le obiezioni del PM Laura Cocucci che ha impugnato l'assoluzione del 23 dicembre 2020 i giudici condividono la forza antagonista degli elementi che portano alla soluzione in primo grado per questo motivo affrontano la rigorosa valutazione della utilizzabilità e attendibilità del dato genetico necessarie per dire se da solo possa sovvertire al verdetto concludono per l'annullamento del prelievo del DNA sul cutter usato per uccidere da cui emersa il profilo genetico di Tizani il 9 novembre 2016 dopo i primi due rilievi dell'11 ottobre che restituirono un esito negativo mentre la prima volta RIS avvisò la difesa la seconda volta non lo fece inoltre accogliendo l'ipotesi difensiva del rischio di contaminazione ritenuta improbabile dal RIS i giudici scrivono che il prelievo indizianti era avvenuto dopo l'estrazione del tampone salivare appartenente al Tizani violando i protocolli chiudono così il discorso sul DNA dopo aver elencato le risultanze a favore di Tizani la corte d'appello risente diverse testimoni concludendo che la quasi totalità non ha ricordato affatto di aver udito grida evocanti un litigio in corso avendo precisato di aver sentito soltanto le urla di un uomo cioè perché l'hai fatto e oh mio dio per la corte si trattava quindi della reazione angosciosa disperata e rabbiosa che l'imputato aveva avuto alla scoperta della moglie sanguinante in terra mentre la voce femminile udita dalle due ragazze era della nuora che piangeva si aggiunge la questione del cutter trovato a ottobre in una siepa a 600 metri da casa considerati troppi per essere tale luogo raggiungibile in poco tempo 15 minuti circa e tornare subito a casa per i giudici il ritrovamento è più compatibile con il gesto di un rapinatore che si sbarazza delle prove secondo l'accusa Tizzani ha nascosto il cutter in casa e se ne è liberato in un secondo momento ma la corte parla di ipotesi mortificata dall'esito negativo della scrupolosa perquisizione inoltre si chiede perché se fosse stato l'imputato il colpevole in un secondo momento non avesse gettato l'arma in un fiume per esempio i giudici hanno ascoltato la telefonata di Tizzani al 118 che ha consentito di apprezzare in modo drammaticamente e sinceramente palpitante con cui chiamava confusamente i soccorsi riconoscono che la fuga dello sconosciuto sia singolare ma proprio per questo superflua laddove fosse menzognera così come non si spiega in un'ottica di versione maliziosamente mendace perché l'imputato abbia descritto l'assassino con le mani abbronzate senza invece cogliere al volo la notizia che l'assassino avessi usato i guanti se fosse stato lui il colpevole sapendo di averli utilizzati avrebbe dovuto riferire di aver visto l'uomo con i guanti bianchi frugare nella borsa della moglie c'è un altro dato valorizzato a favore dell'ex ferroviere l'uomo non era minimamente sporco di sangue e non si era cambiato gli abiti inoltre la possibilità che possa essersi lavato le mani non ha trovato alcun riscontro nel test sul lavandino la domanda spontanea dei giudici quindi è se non si è sporcato chi avrebbe imbrattato di sangue tutto il luogo del delitto? la borsa della vittima la porta della cucina la porta finestra gli interruttori erano sporchi macchie sì ma niente impronte detto questo ragazzi ho finito di parlare in questo lunghissimo video come al solito grazie mille per tutti quelli che mi hanno seguito fino a qui fatemi sapere che cosa ne pensate di questo caso visto che si termina con una soluzione insomma dobbiamo credere al ladro che ha ucciso questa donna per poi frugare nella sua borsa non lo so non lo so fatemi sapere che cosa ne pensate di questo caso qua sotto nei commenti come vi dico di solito ci becchiamo nei commenti io nel frattempo vi mando un bacione mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti a tutti